Ciao a tutti ragazzi, io sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Oggi vi presento Timeline Twist, questo velocissimo gioco di carte a tema Star Wars, edizione italiana a cura di Asmod Italia, che io come sempre ringrazio di cuore per la copia fornita. Timeline Twist è un gioco velocissimo, portatile, tranquillamente lo potete portare ovunque in giro, vedete anche la confezione è molto piccola, ed è veramente carino e vi metterà alla prova per la vostra conoscenza dei film della saga più bella del mondo e per me di tutti i tempi. Ve ne parlo a breve dopo la sigla. Timeline Twist, in questa edizione italiana a cura di Asmod Italia, è un gioco di cronologia. Avrete un centinaio di carte, che poi ne verranno pescate una trentina e il resto ho messo da parte, che vanno a prendere tutta quanta l'esalogia di Star Wars ed anche oltre, quindi anche i nuovi film che personalmente non ho apprezzato, però ci sono anche i nuovi film, gli ultimi tre. Ci saranno delle carte con un dorso bianco e dall'altra parte un dorso nero, e ciascuna carta sarà numerata. Quindi girando la carta da un lato sarà bianco, senza il numeretto, e dall'altra parte avrà un bordo nero con un numero. Ovviamente il regolamento è molto semplice, ciascun giocatore avrà tot carte in mano e avrà la possibilità di giocarne una o due nel suo turno. Questo è un gioco cooperativo, per quanto c'è anche la modalità competitiva per fare una sfida di conoscenza sull'ambientazione generale di Star Wars. Si va a giocare la carta o le carte che abbiamo in mano, ve l'ho detto, fino a un massimo di due, e quando si vanno a mettere in campo vanno sempre girate sul lato nero, e dietro nel lato nero, come detto poc'anzi, c'è un numero che va incastrato con quelli già presenti. Ad esempio, se sul tavolo ci sono la 1, la 2, la 5 e la 10, e noi abbiamo la carta 7, andrà incastrata fra queste. Se ad esempio noi andiamo a mettere una carta, però già questa carta qui è bloccata da un'altra, ad esempio se già sul campo ci sono la 5 e la 10, ma noi in mano abbiamo la 7, 5 e 10 già sono attaccate, perché la 10 è sotto la 5, quindi non abbiamo posto dove andarla a mettere. Allora si mette sul lato sinistro, come intermezzo, fra la 5 e la 10 ci sarà la 7. Ma nel caso dovesse uscire una carta 8 in mano a qualcuno, non potrebbe essere posizionata, perché ci sono già le due carte unite più l'intermezzo che abbiamo messo poc'anzi, e quella carta dovrà essere scartata. Quindi è semplicemente un gioco dove noi, con i numeri che ci sono, dobbiamo andare a creare una cronologia dei film di Star Wars messi tutti insieme in successione, e quando un giocatore arriva ad avere una carta in mano che non può posizionare, va semplicemente a scartare. Carte scartate danno un malus ai punti a fine della partita, ma tanto come è detto un gioco cooperativo, quindi o si vince o si perde. La partita, quando è che va a terminare? Quando il mazzo di pesca è finito, o quando un giocatore non può fare niente con le carte che ha in mano. Perché se questo giocatore, a parte scartare, non può proprio giocare o posizionare niente, perché le carte che ha in mano non si vanno ad incastrare con quelle che sono sul tavolo, la partita finisce ed è una sconfitta per tutti. Il regolamento, che è di 5-6 pagine, vale la pena, comprende anche una modalità competitiva per sfidarsi l'un l'altro, appunto a vedere chi crea la miglior cronologia, e che è quello che poi fondamentalmente ha vinto questa gara su catalogare tutti gli eventi principali, tra l'altro rappresentati molto bene sulle carte e molto evocativo, della saga più bella della storia, ovvero Star Wars. In conclusione, Timeline Twist è un gioco velocissimo, questo è un gioco non per tutti di più, anche per chi davvero non si è mai, e ripeto, mai avvicinato al gioco da tavolo, quindi è perfetto, si porta benissimo dietro, richiede forse un pochino di spazio, un tavolinetto serve perché comunque c'è da mettere tutte quante le cose in cronologia, pila degli scarti, quindi richiede un po' di posto, ma si porta benissimo ovunque, perché no, anche in vacanza per farsi una partita. Poi un match, come riporta sulla scatola, dura 20 minuti, secondo me imparate le regole, ne dura anche 10-15, quindi si possono fare più partite o anche nel frattempo magari, che ci stiamo un po' annoiando. Quindi gioco consigliato assolutamente a tutti, io ringrazio Asmo d'Italia per la copia fornita, come sempre, se ne volete ordinare una copia, primo link in descrizione, in sovraimpressione, dal nostro negozio sponsor Giocolibreria Semola. Non soltanto al miglior prezzo sul mercato, ma se andate sul sito e lo trovate finito, oppure proprio non è in catalogo, mandate una mail al supporto tramite il sito della Giocolibreria Semola e fate presente che arrivate dal mio canale, dal canale di Coridan. Giocolibreria Semola farà il possibile per trovarvelo al miglior prezzo sul mercato, anche se non è presente in lista o se le copie sono finite. Ovviamente se il titolo in questione è ancora reperibile sul mercato. E usate sempre il codice discount Coridan7 per avere uno sconto del 7% e per spese superiore ai 79 euro, corriere gratuito in 48 ore in due giorni in tutta Europa. Quindi ordinate, state in Svizzera, in Francia, in 48 ore vi arriva a casa e non pagate le spese postali. Giocolibreria Semola è sempre un servizio al top della professionalità e cortesia. Ancora una volta, grazie ad Asmod Italia per la copia fornita e ragazzi, se siete amanti di Star Wars e cercate proprio un giochino veloce, semplice, immediato e da proporre veramente a chiunque, anche alla nonna, perché ci sono soltanto da vedere dei numeretti, è perfetto. Ciao, alla prossima! Se questo video ti è piaciuto, lascia un like e clicca sulla campanella per essere sempre aggiornato, ricevere notifiche e non perderti nemmeno un video in uscita. Primo link in descrizione, primi link che trovate, ricordatevi sempre di iscrivervi anche al canale Facebook, al canale mio di Live Twitch, alla mia pagina Instagram e alla mia pagina TikTok, che sono sempre aggiornate e su Twitch mano a mano troverete la programmazione aggiornata con tutte quante le live del giorno, quindi guardatela sempre perché ci sarà sempre la programmazione aggiornata. Mi raccomando, iscrivetevi soprattutto ai social perché sono sempre aggiornati e se devo comunicare qualcosa, anche per il canale YouTube lo troverete sempre lì. Ciao, alla prossima!